Allo showroom Murrina Classica Veneziana, sconti del 40 e del 50%? Vieni presso il nostro punto vendita, in via Matteotti 4042 ad Avellino. Una persona disagiata che ha bisogno di cure, ma questa volta è esagerato. Il sindaco di Cesinali, Ciro Tango, tende la mano, l'uomo che sabato notte ha piccato il fuoco al portone d'ingresso del comune, ma lo invita a fermare il suo istinto aggressivo. L'autore del raid incendiario, un 55enne del posto, ex guardia giurata, finita in disgrazie. Già quattro mesi fa l'uomo aveva tentato di appiccare il fuoco in un locale del municipio, venne fermato da alcuni dipendenti del comune. L'altra notte ha riempito di benzina una bottiglia e ha dato alle fiamme il portone d'ingresso del municipio. Il 55enne ha anche diverto il citofono e ha tentato di incendiare lo sportello del bancomat, provvidenziale all'intervento dei carabinieri, alertati da alcuni residenti. Il responsabile del danneggiamento è stato denunciato all'autorità giudiziaria. La persona che è qua, lo conosciamo un po' tutti quanti, è solamente un'azione eclatante per mettersi in mostra, perché lui ritiene che ha diritto alla pensione, pur avendo 55 anni, ha diritto alla pensione perché ha avuto tempo fa, qualche anno fa, un ictus. Però non certamente è il comune che gli può dare la pensione. Né tantomeno il comune può fare qualcosa per anticipare gli anni della pensione, perché sappiamo tutti quanti che oggi avere la pensione è un miraggio per molte persone. Per cui io spero che non lo faccia più, però la prima volta molti danni non ne fece, perché stavolta qualche danno me l'ha fatto. Certamente non possiamo pensare che ogni due o tre mesi andiamo a sostituire la morte del comune o qualche altra cosa del comune. Perché poi potrebbe, fino adesso non è successo niente proprio di importante, però non vorrei che poi nel futuro questo suo atteggiamento diventi veramente dannoso per l'edificio comunale. Una persona che considerando le sue condizioni andrebbe curata, insomma, Sindaco? Sì, sicuramente curata, però il primo medico dovrebbe essere lui stesso, perché queste azioni le fa sempre quando sta in uno stato di ubriachezza, che beve molto, specialmente la birra ne beve in quantità eccessive. Noi adesso già abbiamo attivato i servizi sociali, adesso vediamo un po' se anche quelli della salute mentale ci danno una mano per dargli un po' di assistenza, cercando di curarlo. Però il suo pallino è quello di avere la pensione, certamente. Se insiste su questo argomento nessuno lo potrà aiutare, sicuramente. Lei la prima volta aveva perdonato, prima mi ha confidato. Adesso vuole lanciare un appello anche a questa persona? A questa persona che almeno non lo faccia più. Quello che possiamo fare per dargli una mano lo faremo, ma l'impossibile non si può fare. Non è che la pensione la dà il comune. Noi più che dargli quel lobolo che ogni tanto gli diamo a Natale e a Pasqua, più di quello non possiamo fare, assolutamente. Non è certo che possiamo dargli uno stipendio o una pensione come comune. Ma d'altra parte lui non ce la chiede a noi, la verità. Non ce l'ha mai chiesta e speriamo che continui a non chiederla a noi.